Ciao da Luca, post dedicato all'allenamento con una novità, una novità che troverete tra poco all'interno dei video e dei post di allenamento a casa o all'aperto. La novità che cos'è? È questo accessorio, la palla appesantita. Qui nella mia casa studio ce n'è più di uno ovviamente con cui mi alleno e alleno le persone che vengono da me a fare esercizio di pilates, pilates funzionale, tonificazione, condizionamento muscolare e quant'altro. Ho deciso di inserirlo e di inserire gli esercizi all'interno del post perché? Perché la palla appesantita che, stavo quasi dimenticando, se non ce l'hai può essere sostituita dalla bottiglietta dell'acqua, in questo caso questa è da mezzo litro, la potete usare anche quella da un litro, la palla appesantita rappresenta, è in verità, un sovraccarico. Un sovraccarico che diventa funzionale all'interno di una serie di esercizi, all'interno di un allenamento, come dicevo, che può essere di pilates solistico, di allenamento, tra virgolette, funzionale, fatto qua a casa e chiaramente estremamente personalizzato, può essere molto utile a fare che cosa? Ad aumentare il nostro livello di forza, forza fisica, ok? E lavorare anche quindi in maniera più intensa sulla resistenza, resistenza muscolare allo sforzo. Una precisazione, lavorare con piccoli sovraccarichi come questi, in questo caso una palla da due chili, la bottiglia da mezzo litro pesa circa 400 grammi, credo, se non ricordo male, comporta che cosa? Comporta che con la giusta modalità, con il giusto programma di lavoro e gli esercizi mirati, andiamo, come dicevo, ad aumentare la forza, quindi a stimolare il nostro metabolismo in maniera diversa, in maniera più diversa rispetto al lavoro a corpo libero, che comporta comunque un miglioramento e comporta una modificazione corporea, che è quella che si va a ricercare, un miglioramento e un riequilibrio del corpo attraverso l'esercizio, comporta appunto una modificazione corporea, un aumento della forza e un aumento anche della resistenza muscolare, ripeto, all'interno di un programma di lavoro che nel mio caso, lavorando molto come coacholistico a livello personale, diventa chiaramente estremamente specifico in base alle caratteristiche della persona. E questa è la novità che troverete nei video, troverete esercizi singoli, troverete piccoli circuiti che, come vi ho detto prima, io ve li farò con la palla da due chili, in questo caso in commercio se ne trovano in verità da mezzo chilo, da un chilo, da cinque chili, ce ne sono di vari carichi. Il mio consiglio è, se la vuoi acquistare, fallo, non è un obbligo, il peso che ritieni migliore per te, quello che ritieni di poter gestire. Mezzo chilo sinceramente è veramente poco, però, anche perché a quel punto tanto vale utilizzare la bottiglietta, se invece appunto non vuoi investire, bottiglietta dell'acqua. Ci vediamo nei prossimi video, se vuoi dei consigli, se vuoi personalizzare il tuo allenamento, se vuoi fare dei lavori specifici su di te, sono qui, mi puoi contattare, i link di contatto li trovi sia all'interno della pagina Luca Stocchi Coach, sia all'interno della pagina Namaste, che nel mio sito web. Ti aspetto se vuoi, oppure ci vediamo nel prossimo video. Ciao e grazie.